Sebbene l'industria contribuisca al PIL nazionale per il 21%, tra il 2007 e il 2022 il valore aggiunto reale dell'attività manifatturiera italiana è sceso dell'8,4%, in Francia del 4%, mentre in Germania la variazione è stata positiva e pari al più 16%. A dirlo è l'ufficio studi della CGA. Il comparto che nell'industria italiana ha subito la contrazione negativa del valore aggiunto più pesante in questi ultimi 15 anni è stato il coke e la raffinazione del petrolio. Seguono il legno e la carta, la chimica, le apparecchiature elettriche, l'energia elettrica, gas, i mobili e la metallurgia. Per contro invece i settori che esibiscono una variazione positiva sono i macchinari, gli alimentari e bevande, i prodotti farmaceutici. Sempre tra il 2007 e il 2022 il valore aggiunto reale dell'industria del mezzogiorno è crollato del 27%, quello del centro del 14% e della nord-ovest dell'8%. Solo il nord-est ha registrato un risultato positivo che ha toccato il più 5,9%. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!